Gli armadi disordinati sono opprimenti e ti stressano prima ancora di iniziare la tua giornata. Di addio a tutto quel caos e a quella frustrazione e dai il benvenuto agli Starleaf Space Hangers, il nuovo modo rivoluzionario di organizzare il tuo guardaroba e massimizzare lo spazio del tuo armadio. Basta far scivolare gli Space Hangers sui tuoi appendi abiti esistenti e impilarli. Il design universale significa che puoi usarli con qualsiasi tipo di appendi abito. Legno, plastica, velluto, metallo, nessun problema. Possono sostenere più capi senza piegarsi o rompersi. Raggruppa senza sforzo un intero outfit, eliminando la necessità di cercare, passando da una situazione all'altra. Trasforma il tuo armadio e scopri quanto spazio hai realmente con gli Starleaf Space Hangers. Potrai comprare più vestiti, rendendo la tua vita più semplice ed efficiente con questo incredibile nuovo strumento di organizzazione dell'armadio. Non lasciare che il disordine prevalga. Approfitta di questa offerta e prendi i tuoi ora!